Buon weekend, oggi è sabato 15 gennaio 2022. Il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 16.57. Ci apprestiamo dunque a terminare questa settimana con il bel tempo, ma prima di vedere le condizioni atmosferiche diamo un'occhiata a chi è il santo del giorno e troviamo un santo il cui nome è ancora molto molto attivo, molto molto diffuso ancora oggi. Si tratta di San Mauro, San Mauro Abate, monaco benedettino, uno dei primi discepoli di San Benedetto, l'altro era San Placido. San Mauro apparteneva ad una famiglia senatoria, fu attratto dalla figura di San Benedetto che seguì condividendone la fede e lo stile di vita. Fu nominato priore di Monte Cassino e poi fu mandato in missione dallo stesso San Benedetto in Francia. Durante la sua vita fu artefice di molte cose straordinarie e, insomma, di miracoli. Bene, questo era il santo del giorno. Vediamo ora le previsioni del tempo. Sono previsioni buone. Abbiamo il sole in tutta la regione. Un campo di alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato in tutte le marche. Le minime sono ancora contenute. Le massime sono in deciso rialzo. E quando siamo verso le 10, le 11 della mattinata, la temperatura sale e si sente il caldo del sole. Bene, con questa bella premessa diamo un'occhiata subito al Quotidiani questa mattina a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano dove abbiamo il consuntivo, anzi il preventivo del bilancio 2022 della Fondazione Teatro della Fortuna. A teatro, prosa, lirica e concerti. Gli oneri al Comune per il 73%. Questo è il contributo al preventivo di 681 mila euro che costituisce la somma globale del bilancio. Insomma, il Comune interviene con un contributo di 500 mila euro rispetto a una somma globale di 681 mila. Una somma appunto che equivale a coprire il 73% del fabbisogno della Fondazione. Il bilancio, dunque, è un bilancio che viene sostenuto essenzialmente dall'amministrazione comunale. Comunque la Presidente della Fondazione è soddisfatta perché poi gli abbonamenti e gli ingressi si mantengono ad un livello accettabile nonostante il Covid. Ovviamente sono messe in atto tutte le precauzioni possibili e immaginabili per tutelare la salute delle persone. Vediamo l'obbligo di presentare il Green Pass rafforzato, di indossare la mascherina FFP2 agli spettacoli, di osservare un idoneo distanziamento prima dell'entrata in attesa appunto che si aprano le porte del teatro e poi un'igienizzazione delle mani, insomma, tutte le precauzioni possibili e immaginabili per cercare di non contrarre il virus. Un'altra notizia pubblicata a fondo pagina del Corriere Adriatico questa mattina riguarda un provvedimento permissivo da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di bar e ristoranti. Tavoli all'aperto, le agevolazioni sono prorogate di tre mesi. Per evitare i rischi di assembramento all'interno dei locali, l'amministrazione comunale ha prorogato tutti i provvedimenti assunti per facilitare l'occupazione del suolo pubblico fino al 30 aprile prossimo. Dunque le agevolazioni già in vigore nel 2021 dovevano scadere appunto al 31-12, sono andate invece prorogate fino alla fine di aprile prossimo. Sulla pagina ancora di Fano vediamo come ci sia stato un collegamento, una collaborazione tra due associazioni importanti a livello dei droni. La passione cresce per l'esercizio di questa attività e a Fano c'è anche la Coppa Italia, una delle sette tappe organizzate dal Drone Racing sotto legida del Centro Sportivo Italiano. Lo sforzo congiunto del XI Payser e del Drone Racing Fano stanno moltiplicando per fare dell'associazione sportiva dilettantistica che è milita a Chiaruccia una realtà sempre più centrale nello sviluppo e nell'affermazione di questa disciplina. È una disciplina tecnica ma così dilettevole che affassiona sempre di più perché poi questi droni viaggiano ad una velocità supersonica e dimostrano la capacità istintiva proprio di manovra appunto di coloro che hanno la facoltà di indirizzare i droni per aria da una parte e dall'altra. Un avviso sul Corriere Adriatico per quanto riguarda le esumazioni del cimitero urbano la scadenza dei dieci anni al Campo Otto a cui si aggiunge quella di 35 anni per i loculi sappiamo benissimo che queste strutture sono in affitto temporaneo in affitto temporaneo appunto ai parenti dei defunti e la scadenza le salme devono essere rimosse oppure il contratto deve essere prorogato. Dieci anni al Campo Otto, quello delle inumazioni 35 anni per i loculi sono a scadenza. Linee, investimenti e occupazioni la svolta nel trasporto ferroviario. Il sindacato Orsa plaude alle azioni del consigliere regionale Baldelli e alla senatrice Accoto per quanto fatto per la Fano Urbino e la Pergola Fabriano. L'Orsa Trasporti riconosce a Baldelli il merito di avere riaperto in pochi mesi, per ora a scopi turistici, la ferrovia Fabriano-Pergola che era stata chiusa da otto anni a causa di un banale dilavamento, insomma di una piccola frana. Altro intervento apprezzato dal sindacato è lo stop alla ciclabile sulle tracciato della ferrovia Fano Urbino che avrebbe rappresentato la definitiva morte della tratta dismessa. Insomma questi esultano perché ovviamente sono dalla parte della ferrovia in contrasto invece di chi vorrebbe che la pista ciclabile Fano Urbino fosse realizzata al lato proprio della ferrovia, ma qui la polemica continua. Giriamo ancora la pagina e vediamo che per il furlo un masso pericolante incombe da diverso tempo. L'ultima verifica verrà attuata tra sei giorni e l'assessore regionale Aguzzi annuncia la conferenza dei servizi per il via libera al progetto ritoccato. L'obiettivo è quello di riaprire la strada che ormai è interdetta al traffico da un anno quanto prima, se tutto fila liscio a primavera. L'investimento ammonta a 400 mila euro, così suddivisi il 60%, ovvero 240 mila euro li eroga Enel Green Power, 100 mila euro li finanzia la regione e 30 mila euro i comuni di Fermignano e la provincia. Qui vediamo una fotografia della strada del furlo che è interdetta al traffico appunto per il pericolo di Frana. Il Consiglio Comunale di Mondolfo in diretta sullo streaming si ha la unanimità ed è stata una decisione unanime presa appunto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Mondolfo quella di trasmettere le sedute in streaming, quindi davanti al computer. Così i cittadini possono seguire più da vicino perché sono a casa loro appunto i lavori consigliari in diretta streaming, le riprese del seduto sul sito web del Comune di Mondolfo come già accade in tante altre realtà. Un fatto di cronaca a Pergola, rubano la borsa al prete, aveva all'interno mille euro e effetti personali, la custodiva all'interno dell'abitacolo della propria auto, due ragazzi l'avevano notata e quindi erano ragazzi che vendevano la frutta. Distraendo il sacerdote, uno ha aperto la borsa e poi ha prelevato, ha aperto scusate la portiera dell'auto, ha prelevato la borsa e insieme al complice sono fuggiti con il furgoncino in cui vendevano la frutta. Però il prete se n'è accorto, appunto li ha denunciati, gli inquirenti sono riusciti ad identificarli ed ora appunto pagano il loro reato. Presi i due ladri, uno a processo con rito ordinario, l'altro ha patteggiato la pena. Dunque a questo punto possiamo vedere la pagina di Urbino. Eccola qua. Eccola qua. si parla di sanità. Sono state portate in ospedale due partorienti, ma scoprono di essere contagiate. Ricoverate due future mamme, impossibile trasferirle a Pesaro, creata per loro una stanza ad hoc, quindi per tutelare loro stesse e tutelare anche gli altri pazienti. Ancora una volta dunque l'ospedale no covid, perché l'ospedale di Urbino è un ospedale no covid, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Insomma, sì, vabbè, è un ospedale no covid, ma di fronte alle emergenze insomma bisogna adattare la situazione. Torna dove l'avevano, dove aveva rubato e lo riconoscono. Si tratta di un extra comunitario quarantenne, residente in zona a Ferminiano e muratore. Ebbene è tornato al Conad, al supermercato, dove aveva già rubato, aveva rubato dei capi di abbigliamento, indossandoli, e così facendo sì che le strutture antitaccheggio non segnalassero appunto il furto. Ma questa volta, quando ci ha riprovato, il proprietario lo ha riconosciuto e quindi è stato bloccato e quindi consegnato alle forze dell'ordine. Vediamo la pagina di Pesaro da parte del Corriere Adriatico. Prima passiamo però attraverso le pagine marchigiane e vediamo come l'incubo inflazione si sovrappone all'incubo covid. Insomma, due problemi molto molto gravi che incombono sul nostro territorio margine. ma anche sul territorio nazionale e oserei dire mondiale. Quello della inflazione e quello appunto della pandemia. Le aziende sono allo stremo. Dopo il covid, l'energia rincari per 807 milioni. Nel 2022 il costo delle bollette per le imprese marchigiane è stato stimato in 1,6 miliardi di euro. Nel 2019 è stato solo di 808 milioni. Solo per modo di dire l'economia torna sott'acqua. E il fatto del caro bollette non solo sta creando problemi alle aziende ma sta creando problemi anche alle famiglie. E proprio su questo si dovrebbe appuntare l'attenzione del governo per lenire gli effetti del caro vita. Saltamartini promette meno peso dei melati ma senza covid hospital. Questo è un articolo che riguarda l'esito della conferenza dei sindaci che si è svolta nella giornata di ieri. La conferenza si è riunita ad Urbino ma si è svolta sostanzialmente online. E' stato il sindaco di Pesaro a pungolare soprattutto l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini presentando con chiarezza e sintesi i temi salienti dell'attuale emergenza sanitaria territoriale. L'assessore regionale ha risposto solo parzialmente appellandosi a problemi così generali. Quali sono stati i temi richiamati dal sindaco? Soprattutto il sovraccarico dei malati covid nelle strutture sanitarie pesaresi la chiusura conseguente di reparti ordinari tra azienda ospedaliera e area vasta dove si ricoverano i malati che non hanno il covid ma questi ormai difettano di cure per quanto riguarda lo spostamento del personale sul problema covid e poi ancora carenza straordinaria dei medici del pronto soccorso di Marche Nord soppressione di molti turni del servizio di guardia medica nel distretto di Pesaro che conta 140.000 residenti. Dicevo che Saltamartini ha risposto solo parzialmente a queste richieste così tirando in ballo l'inadeguatezza retributiva dei medici a livello nazionale mentre per il sovraccarico dell'assistenza covid si è focalizzato esclusivamente sulle terapie intensive tralasciando di rispondere un po' a tutto il resto quindi una conferenza dei sindaci che non ha risolto molti problemi purtroppo per carenza di risposte valide. Si riaprono i punti vaccinali con il camper più presente le richieste dei sindaci alla regione Saltamartini record di somministrazioni questa appunto un'altra focalizzazione per quanto riguarda la sanità pesarese e poi c'è un altro problema quello delle vaccinazioni agli infermieri circa 150 non sono in regola Biagiotti che è la presidente dell'ordine provinciale degli infermieri Laura Biagiotti dice che l'ordine è pronto a inviare 30 sollecitazioni rivolte ai renitenti a coloro appunto che non si vaccinano un'anziana è morta in casa ma il medico non c'è più hanno cercato di chiamare la guardia medica i medici insomma non c'è stato verso appunto la donna era morta e fino al giorno dopo è rimasta nel suo letto senza che nessuno certificasse il suo decesso di qui la rabbia del figlio mia madre è spirata sul letto e lì è rimasta sanità impossibile dalle ore 20 e 30 in poi non c'è nessuno che possa servire a questo scopo insomma espletare un servizio smart working regole più flessibili ma l'ultima parola resta ai dirigenti ieri c'è stato un incontro in comune con i sindacati tra positivi e quarantene mancano circa 100 dipendenti si è discusso appunto sulla possibilità di ampliare lo smart working nel comune di Pesaro maglie più larghe di applicazione al lavoro agile la richiesta rivolta all'amministrazione comunale da parte dei sindacati CGL, CISL e UIL della funzione pubblica l'amministrazione comunque sembra disposta ad accogliere la possibilità di allargare il lavoro smart calato sulle singole situazioni proprio come hanno rimarcato i sindacati nel corso del confronto di ieri c'è questa disponibilità comunque i dirigenti dovranno decidere caso per caso settore per settore come appunto usufruire di questa possibilità e poi ancora sul Corriere Adriatico stati generali di metà mandato dall'emergenza covid al PNRR oltre alla conferenza dei sindaci ieri si sono svolti anche gli stati generali di metà mandato per il comune di Pesaro ebbene oggi allo sperimentale il via alle 10 ma no invece l'appuntamento è oggi scusate l'appuntamento è oggi allo sperimentale nei pressi di Piazza del Popolo il via è alle 10 che cosa si discuterà? si discuterà il programma di lavoro della città sulla base di due questioni fondamentali l'emergenza sociosanitaria e come distribuire come utilizzare appunto i contributi che arriveranno dal PNRR pistole droga e denaro nell'hotel condanna due anni per un minore si tratta in questo caso di un articolo che si riferisce a due ragazzi che facevano parte della baby gang di Piazza Redi con lui un oltre al minore con lui un tredicenne risultato non imputabile ebbene si tratta di due ragazzi uno di 17 anni l'altro di 13 anni che erano stati sorpresi in una stanza di albergo in zona mare con 30 grammi di marijuana e una pistola scacciacani però mancava il tappo rosso insomma che la identificava come una pistola innocua e con quella avevano compiuto anche dei reati insomma ora sono a processo e finalmente due elementi almeno della banda sono stati posti fuori gioco insomma almeno così si spera per quanto riguarda Pian del Bruscolo la richiesta di occhielli alla regione nuova maxi rotatoria all'Unione uno studio di fattibilità all'architetto Montanari anche per la sicurezza dell'ingresso di scuola e di piscina questa è la zona la vedete qui nella fotografia in cui dovrebbe essere realizzata questa nuova rotatoria si tratta della zona di Pian Mauro una zona di traffico intenso soprattutto anche per quanto riguarda il traffico mattutino e quello delle ore di punta insomma quando la gente va ed esce dal lavoro ecco a questo punto abbiamo terminato la nostra rassegna stampa del Corriere Adriatico ora diamo un'occhiata invece al resto del Carlino vediamo la pagina di Fano dove si parla del carovita del carovita al bar delle colazioni al bar colazioni con il contagocce baristi sono esasperati aumenti e covid le riducono al massimo cresce il malcontento tra chi lavora dietro il bancone una situazione difficilissima dicono appunto gli operatori ebbene è un problema per gli avventori andare al bar per il carovita fare colazione ma è un problema anche per gli esercenti i quali si vedono ridurre i propri clienti i clienti l'hanno presa male ma si sono resi conto dei rincari facendo la spesa questa è una dichiarazione appunto di uno dei baristi della foto vediamo Roberto Tarsi al lavoro dietro il suo bancone comunque colazioni al bar in questo inizio di 2022 sempre più care un aumento considerevole che ha fatto desistere molte molte persone di fare appunto di prendere il cappuccino e la brioche al bar alla mattina comunque è molto probabile che dopo i primi tempi si sia adegui anche a questo aumento nel limite delle possibilità tra pochi giorni chiuderà i battenti il Conad centro di via San Francesco si tratta di un Conad insomma che era già in ballo per quanto riguarda la chiusura al suo posto aprirà Coal che però avrà bisogno di qualche settimana per organizzarsi quindi disagi per quanto riguarda i residenti del centro storico che dovranno fare a meno di un punto vendita di particolare importanza perché il Conad era uno dei punti più frequentati l'ASET ieri ha comunicato il sunto, il consultivo delle ispezioni realizzate nelle isole ecologiche nel corso del 2021 45 mila euro per il comune il presidente Paolo Reginelli dice il nostro obiettivo è educare e non quello di reprimere gli addetti alla sorveglianza si muovono solo su segnalazione quando un cittadino esasperato per la sporcizia di una isola ecologica segnala il problema all'ASET nel 2021 l'ASET ha effettuato appostamenti 25 e verifiche fotografiche 1.279 lo scorso anno sono stati 383 i rilievi fotografici allegati ai verbali numerose anche le segnalazioni scaturite dal monitoraggio delle telecamere e poi inviate alla polizia locale sono state 241 sono state 7 invece le segnalazioni ad altri organi di vigilanza e se questi ultimi due dati si aggiungono i 397 verbali non scaturiti dalle video sorveglianze ma frutto di ispezioni sui rifiuti vedete come la cifra insomma la somma aumenti sempre di più vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro caro energia Salasso sulla provincia stimati 150 milioni in più rispetto al 2021 il dato deriva dalla rilevazione dei consumi fatti da Terna gestore delle reti Vittorio Livi della Fiam dobbiamo rivedere tutti i lestini e qui vediamo una manifestazione di protesta contro il caro Bollette sotto abbiamo Vittorio Livi fondatore della Fiam della lavorazione vetro insomma una dei settori che accusa di più le difficoltà appunto di questa situazione la bolletta del gas per noi è triplicata parla così Alberto Barilari che è titolare della Neomec 25 dipendenti un'azienda pesarese che opera nel settore della metalmeccanica di precisione un'impresa meno a valore aggiunto più vulnerabile molto penalizzate anche quelle che lavorano ad esempio con i forni che ovviamente mangiano consumano molta molta più energia e l'energia costa costa molto oggi vaccini esenzioni in serie scoppia il caso Pesaro medici ma anche operai delle fabbriche artigiani dipendenti pubblici l'ordine ci sono troppi certificati ma la legge ci impedisce di controllarli insomma c'è il sospetto che viene evidenziato anche dal presidente dell'ordine dei medici Paolo Battistini che alcuni certificati rilasciati a persone medici e non medici non siano proprio attinenti al reale stato della salute delle persone le quali denunciano delle malattie pregresse che eviterebbero loro di fare il vaccino e questo insomma sarebbe da accertare ma i controlli come evidenzia Battistini sono difficili a farsi ancora il robot chiede come stai ai malati di covid ebbene siamo arrivati a questo punto da ieri chi si trova in quarantena o in isolamento può ricevere una chiamata da un sistema così robotizzato informatizzato telefonico il messaggio pre-registrato agisce in base alle risposte pervenute così ogni giorno un paziente potrà dire quali sono le sue condizioni e dall'altra parte una vocina artefatta prenderà così conto prenderà conto di quanto dice il paziente e risponderà in merito insomma si risparmia personale ma il servizio viene ugualmente prestato bus lo sciopero funziona una adesione ottenuta all'80% contratti scaduti le difficoltà di gestire gli eccessi legati alla pandemia al centro della protesta con punte del 100% tra i settori privati insomma c'è molto malcontento anche nel settore del trasporto pubblico meno linee in servizio autisti in sciopero e lamentere da parte di alcuni cittadini ieri dalle 11.30 alle 15.30 i lavoratori e le aziende del trasporto pubblico locale hanno scioperato per quattro ore aderendo all'azione che è stata proposta dai sindacati Filt CGL Fit CISL Wilt Will Faisa CISAL e UGL Auto Ferro coinvolti circa 1600 dipendenti molti dei quali appunto hanno scioperato Sanità il fronte unico dei sindaci assessore l'entroterra soffre molto si tratta dell'articolo che il resto del Carlino propone per quanto riguarda l'esito dell'area della conferenza dei sindaci dell'area vasta di ieri i primi cittadini hanno incontrato come abbiamo detto l'assessore Salta Martini il presidente della provincia Paolini ha dichiarato i cittadini siano assistiti come gli altri Petrucci curare oltre al covid anche le altre malattie insomma la richiesta i direttori generali devono dare tutti i dati legati alla sanità del territorio per avere un quadro preciso per poi effettuare i giusti interventi e siamo in conclusione vi segnalo soltanto una notizia di sport si parla della VL Sanford che adrenalina affrontare Milano si tratta di basket ovviamente la guardia della VL a cuore aperto volevo andare via per problemi familiari banchi mi ha capito e ora voglio ripagare la fiducia e qui vediamo appunto V Sanford durante una delle azioni più belle della VL e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì alle ore 7 buona giornata a lunedì a lunedì Grazie a tutti